Senti, da dove torni invece stasera? Non sai che ho scoperto che mi piace il reggae? Ascolto solo reggae ormai. Sai invece tu che mi ricordi, pensavo? Mi ricordi un personaggio di quel racconto di Huxley. Due o tre grazie, l'hai letto? No. Leggi, è molto bello. C'è questa protagonista femminile che se sta con un fotografo si interessa in fotografia. Poi si innamora di un pittore e allora si appassiona moltissimo di pittura. Poi c'è un nuovo fidanzato che fa il poeta, allora inizia a scrivere poesie. Poi alla fine incontra anche un etologo, allora inizia a imparare tutti i nomi degli animali. Leggi, leggi perché i dialoghi sono bellissimi. Amore, se io non inquadro il mondo non lo vedo più. Uh, tesoro, senza la pittura io non vivo. Se non scrivo poesie tutte le macchine non capisco più niente. E poi lì si fa l'etologo e gli dice muoio se non accarezzo un animale selvatico. Hai capito? Una cretina in pratica. No, io questo non l'ho detto. Diciamo una creatura altamente influenzabile, ecco. No.